Vedi, quando dici amore, la tua esperienza dell'amore significa che senti una certa dolcezza emotiva dentro di te, che sia dovuta a questa persona o a un'altra, non sappiamo chi stimola questo in te. Non importa chi ti ha aiutato, ma essenzialmente è successo dentro di te, non è vero? Sì? È solo successo dentro di te o era nell'aria? Sto cercando di chiarire quest'aria. Davvero? Era nell'aria? No, è successo solo dentro di te. Forse quel che stava accadendo dentro di te era così esuberante che l'hai visto dappertutto. Sei innamorato e pensi i fiori sbocciano per te, gli uccelli cantano per te, le nuvole si muovono per te. Va bene, non voglio distruggere tutto il romanticismo. Ma essenzialmente sta accadendo dentro di te. È meraviglioso che tu stia vivendo una tale dolcezza di emozioni stimolata da qualcuno. Stai usando l'altra persona come chiave per aprire un'esperienza dentro di te essenzialmente. Ti chiedo, perché usare una chiave quando non c'è serratura, non c'è porta, non c'è alcun tipo di barriera? È solo che sei una macchina con avviamento a spinta. Sai cos'è una macchina con avviamento a spinta? Se avevi un ambassador 25 anni fa, parcheggiavi sempre su una pendenza così, perché la mattina servivano due persone per spingerla. Se la parcheggi così, non viene nessuno. La tua famiglia non uscirà di casa. Se invece è così, qualcuno verrà a spingerla. Oggi tutte le auto sono ad avvio automatico, molte ad avvio remoto. Che cosa significa? Aggiornamento tecnologico. Siete un istituto tecnologico. Ti chiedo, ti piacerebbe aggiornare la tua tecnologia ed essere ad avviamento automatico? Ti svegli al mattino pieno di gioia, amore, esuberanza, per conto tuo. Non hai bisogno di nessuno che ti stimoli. Ti piacerebbe essere una macchina ad avviamento automatico? Allora devi venire da me. Quelli che fanno la cosa dell'amore nell'aria, va bene, non c'è bisogno di dirgli nulla. Gli dici, va bene, ok. Però è molto importante che tu sia ad avviamento automatico, altrimenti dopo un po' cercherai di estrarre felicità dall'altra persona. È qui che queste storie d'amore diventano noiose e orribili, perché stai cercando di estrarre felicità dall'altra persona. No, la vita dovrebbe essere così. Quando si tratta di gioia, quando si tratta di amore, quando si tratta di esuberanza di vita, devi essere tu la fonte di questo. Non è vero? Devi esserne tu la fonte. Beh, altre cose sono condivise nella vita. Ci sono due strade per entrare in una relazione. Una è perché vuoi estrarre qualcosa da qualcuno. L'altra è perché vuoi condividere qualcosa con qualcuno. Queste due strade. Se vai per condividere, la tua vita sarà buona. Se vai per estrarre, quando chiudono il rubinetto, diventerà terribile e odioso. Hai visto persone che pensavano di essere veri innamorati? Quanto terribile diventa per molti di loro. Non perché ci sia qualcosa di sbagliato in loro. Semplicemente perché cominci con il piede sbagliato, pensando questa persona è la fonte della mia gioia. No, no, no. Gioia o infelicità, la fonte è dentro di te. Sì o no? Che sia gioia o infelicità, la fonte è dentro di te. Sta a te decidere. Se sei gioioso, anche gli altri vorranno stare con te. Se sei nell'infelicità, ti sopporteranno per un po'. Posso raccontarti una barzelletta, ok? Un certo giorno, Shankaran Pillai... Che succede? Stava camminando in un parco di sera, all'ora del tramonto, e vide una ragazza carina seduta su una panchina di pietra. Sapete, le panchine del parco. Andò anche lui a sedersi sulla stessa panchina. Dopo un po' si sposta un po' più vicino. Lei si allontana un po'. Lui aspetta qualche minuto e poi si avvicina ancora un po'. Lei si allontana un po'. Lui si avvicina ancora. Ora lei non poteva più allontanarsi perché era la fine della panchina e lo spinge via. Allora lui aspetta due minuti, il tempo di avere il sole alla giusta angolazione, poi si inginocchia e dice Ti amo, ti amo come non ho mai amato nessuno in vita mia. Sai, le donne perdono la testa per l'amore. E il sole al tramonto, se fosse stato a metà pomeriggio, col cavolo gli avrebbe creduto. Il sole tramonta, l'atmosfera è quella giusta e lei ha ceduto. La natura prese il sopravvento. Succedono cose tra di loro. Poi lui guarda l'orologio. Erano le otto di sera. Si alza dicendo Devo andare, devo andare. Lei dice Dove vai? Hai detto che mi ami. Lui dice Mia moglie mi aspetta, devo andare. Vedi, ti amo per molte persone così, tipo apriti sesamo. Vuoi ottenere qualcosa? Forse i tuoi sono bisogni fisici, psicologici, emotivi, finanziari, sociali o chissà cos'altro. Hai dei bisogni da soddisfare. Usi questo mantra e funziona. La metà delle volte funziona, ok? Sto dicendo che è importante. È importante conoscere la gioia di essere amorevole perché la dolcezza dell'emozione è necessaria per te. Se desideri fare davvero grandi passi nella tua vita, se non hai dolcezza d'amore nel tuo cuore, credimi, se provi a fare grandi passi nel mondo, particolarmente in India, finirai con l'essere frustrato e andrà in Canada. You will end up frustrated and go to Canada. In Canada si incontrano solo alci nella maggior parte del paese, quindi va bene. In Canada si incontrano solo alci